Siamo arrivati all'ultimo giorno di questo meeting nazionale della solidarietà, il diciottesimo, e siamo in piazza Vittorio Emanuele insieme a tutti i volontari e le volontarie di Ampas da tutta Italia. Una tre giorni bellissima, davvero densa, di tante cose interessanti, tanti temi di grande attualità, letti e vissuti nell'ottica del movimento. Ora l'emozione più grande ovviamente è vedere tutti i nostri ragazzi, come mi piace chiamarli, qui insieme in questa piazza che invaderanno le strade di Pisa fino ad arrivare al termine del corteo per salutarci e darci al puntamento al prossimo meeting nazionale. Grazie a tutti perché sono stati tre giorni veramente emozionanti. Grazie a tutti.